Dico sia alle tv ma anche a chi poi si diverte a scrivere commenti da geni su facebook di osservare il meno rispetto per la famiglia coinvolta. È il sindaco di Santa Giustina in Colle Moreno Giacomazza a invitare tutti a rispetto del dolore di una famiglia. Sono le 16 e 25 di giovedì quando i carabinieri dei reparti speciali entrano nella casa di via Dante dove per 30 ore un 61enne ha rifiutato di seguire i medici che a sua tutela avevano chiesto il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio. L'uomo è stato sorpreso da un'azione lampo preservando la sua incolumità e quella degli operatori. Negli ultimi minuti era diventato sempre più aggressivo quindi c'era il rischio che si procurasse delle lesioni o che prendesse l'iniziativa e si scagliasse contro gli operatori e quindi abbiamo deciso di intervenire per garantire la sua e la nostra sicurezza. L'uomo è stato ricoverato per le cure del caso. Il posto di blocco posizionato lungo la provinciale per un giorno e mezzo non c'è più. La vita è tornata alla normalità a Santa Giustina in Colle dove tutti si augurano che anche per la persona coinvolta ci possa essere un orizzonte di serenità.